i miei fratelli e sorelle pace del signore di vi benedica 27 aprile oggi 7 del mattino leggiamo insieme in giosuè capitolo 1 verso 9 e il signore che parla al futuro condottiero di israele ormai mosè è morto giosuè ne deve prendere il posto e il signore le ancoraggia gli dice non te l'ho io comandato si forte e coraggioso non ti spaventare non ti sgomentare perché il signore il tuo dio sarà con te ovunque andrai non era facile quello che giosuè avrebbe dovuto fare perché avrebbero dovuto condurre un popolo un popolo numeroso un popolo che avrebbe dovuto affrontare numerose battaglie un popolo che spesso aveva mormorato e si era perso di coraggio durante i 40 anni del deserto e giosuè lo sapeva bene perché lui era stato al fianco di mosè e quindi aveva visto tutte le sofferenze che mosè aveva affrontato e sicuramente già si immaginava che avrebbe dovuto anche lui affrontare le stesse forse delle maggiori sofferenze il signore gli dice si forte si coraggioso e credo che anche noi quando guardiamo a quello che cristo è dovuto affrontare a quello che la chiesa ha dovuto e deve ancora oggi sopportare potremmo essere spinti a deprimerci a perdere coraggio ma stamattina la parola di dio viene e ci dice si forte e coraggioso non ti devi spaventare non ti devi sgomentare ma non perché non ci saranno battaglie da affrontare non perché tutto sarà facile ma semplicemente perché io il signore il tuo dio sarò con te dovunque andrai e questa è la promessa che ci aiuta ci aiuta ad essere forti e a non perdere coraggio e la stessa promessa che il signore fece d'altronde a tutti coloro che chiamò a servirlo lo disse ad abramo lo disse a giacob lo disse a mosè ancora prima di giosuè lo dirà a gedeone lo disse a geremia lo dice ancora noi oggi anzi gesù disse prima di ascendere al cielo mentre parlava ai discepoli io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente e la presenza del signore è qualcosa che sicuramente rassicura i nostri cuori perché sappiamo che laddove c'è la presenza del signore allora lì c'è la sua benedizione ed è vero possiamo essere attaccati da parte dei nostri nemici ma non dobbiamo temere anzi come davide il salmista possiamo affermare il signore la mia luce e la mia salvezza di chi temerò il signore è il baluardo della mia vita di chi avrò paura quando i malvaggi che mi sono avversari e nemici mi hanno assalito per divorarmi essi stessi hanno vacillato e sono caduti se un esercito si accampasse contro di me il mio cuore non avrebbe paura se infugliasse la battaglia contro di me anche allora sarei fiducioso una sola cosa ho chiesto al signore quella ricerco di abitare nella casa del signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del signore e meditare nel suo tempio perché egli mi nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora mi porterà in alto sopra una roccia che bella la fiducia di davide ecco perché lui ebbe il coraggio di andare ad affrontare golia e quanti golia dobbiamo affrontare nella nostra vita quanti giganti si presentano lungo il nostro cammino se siamo forti e coraggiosi non solo li affronteremo ma li vinceremo come davide e li combatteremo non con le nostre forze non con le nostre capacità ma nel nome del signore degli eserciti tu vieni a me con spada e lancia io vengo a te nel nome del signore degli eserciti è vero i nostri nemici possono organizzare tante cose ma non possono vincere contro la chiesa del signore gesù lo disse io edificherò la mia chiesa le porte dell'ades non la potranno vincere d'altronde se cristo è il capo della chiesa ed egli lo è se cristo è il nostro signore e la nostra avanguardia la nostra retroguardia egli lo è chi potrà vincere contro di noi neanche la morte ha potuto fermare cristo perché egli il terzo giorno è risuscitato e la tomba vuota e c'è testa che egli ha vinto perfino sulla morte ora egli è vivente alla destra del padre e il suo sguardo ancora oggi vigila su tutti coloro che lo amano e lo temono allora coraggio sì le battaglie ci sono delle volte dobbiamo essere anche maltrattati a causa della nostra fede in cristo e gesù ma cosa importa hanno fatto questo al nostro maestro prima di noi dobbiamo essere pronti ad affrontare le stesse sofferenze che egli ha affrontato non scoraggiamoci è vero delle volte ci sono tutti i motivi per essere scoraggiati ma noi abbiamo il signore questa è la differenza che c'è tra un credente un non credente la forza e il coraggio che vengono dal signore e anche quando ci sembra di essere deboli anche quando ci sembra di non avere più nessuna energia non dobbiamo gettare la spugna perché proprio in quel momento se noi continueremo a ricercare la forza del signore realizzeremo quello che paolo scriveva ai corinzi e cioè che quando siamo deboli allora siamo forti e che la potenza di dio si manifesta in tutta la sua gloria proprio nelle nostre debolezze si forte si coraggioso perché io sarò con te ovunque tu andrai e i discepoli andarono annunziarono l'evangelo il signore li accompagnò e li accompagnò con i segni e prodigie che aveva loro promesso e ancora oggi la chiesa del signore anche se è combattuta anche se viene contrastata continua ad avanzare ad andare avanti e a mostrare i segni di cui i vangeli parlano e noi vogliamo essere di quelli che non si tirano indietro ma di quelli che con forza e con coraggio forza e coraggio che non trovano in loro stessi ma che ricevono dal signore in quanto gliela chiedono vanno avanti nelle vie della vita avendo lo sguardo rivolto verso la meta celeste la gerusalemme che presto scenderà dal cielo perché lì vogliamo abitare e lì vogliamo vivere col signore per l'eternità un altro giorno è davanti a noi siamo di dio ci dia grazie di essere forti e coraggiosi con la consapevolezza che se siamo fedeli il signore sarà con noi e ci aiuterà ad affrontare ogni circostanza della vita la pace la grazia l'amore la presenza di dio sia con tutti quanti noi dio ci benedica insieme grazie a tutti